È stata l'amministrazione che ha lanciato questo incontro, una quindicina di cittadini che hanno avanzato anche giustamente le loro proposte, l'obiettivo era proprio questo. Noi come movimento c'eravamo anche perché per il poderino ci siamo battuti da tantissimi anni per una viabilità più a misura d'uomo e infatti abbiamo proposto due mozioni su questo argomento, tutte e due approvate quindi positivamente l'Iter è andato avanti e oggi si sta realizzando concretamente nel giro di poche settimane, forse un mese, un mese e mezzo, la nuova viabilità verrà disegnata, ridisegnata in questo quartiere che è stato luogo di incidenti anche molto pericolosi vista anche la pericolosità degli incroci. Saranno incentivati e attuati dei nuovi sensi unici, diciamo non su grande scala ma comunque che renderanno efficace una nuova abilità, soprattutto per quanto riguarda le automobili. Da questo punto di vista si andranno a togliere molte pericolosità, soprattutto in entrate e in uscita anche verso via giustizia e il quartiere stesso. Per noi questo è molto positivo anche perché i nostri suggerimenti nelle mozioni sono stati accolti. Stiamo puntando adesso anche insieme ad altri cittadini, giustamente anche all'amministrazione che ha recepito molto bene queste istanze, un miglioramento dal punto di vista della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. È stato istituito un senso unico in entrate verso il quartiere per via Antinori, quindi da via giustizia si entra nel quartiere tramite via Antinori che diventerà senso unico, mentre in uscita le due vie laterali praticamente, cioè via Gobetti e via Dini che invece immetteranno verso via giustizia. Questo toglierà assolutamente delle pericolosità che hanno creato infatti poi molti incidenti.